Le patologie e le disabilità non vanno in ferie. Ne è convinto il consigliere regionale del gruppo misto Antonio Tutolo, presidente della seconda commissione consigliare della regione Puglia, che ha deciso di incatenarsi davanti alla sede del consiglio regionale a Bari. Tutolo ha spiegato le ragioni della sua personale protesta, un modo per attirare l'attenzione sulla questione dei fondi destinati alla riabilitazione termale di persone affette da gravi patologie e disabilità. Dopo diverse settimane e mesi di sollecitazioni agli uffici per risolvere questa questione, purtroppo non avendo risposta non vedo altro modo. E infatti stamattina magicamente arriva la risposta della regione, e che però non è soddisfacente. E la risposta della regione è quale stata? La risposta della regione è bella, lunga e articolata. Quando uno vuole dire tante cose non dice nulla, alla fine dice che faranno che si parla... Secondo me io non so neanche se l'hanno inquadrato bene il problema, perché dei 5 milioni non ne parla proprio. Telefonicamente mi sono sentito con qualcuno che diceva no, affronteremo anche quel tema all'interno. Quindi io spero che a breve lo affronteranno, perché ripeto, io non ho voglia di rompere le scatole. Però è chiaro che io devo svolgere il mio ruolo. Se io so che ci sono delle opportunità per i cittadini della regione Puglia, io ho il dovere morale di, come dire, sollecitare risposte, perché sennò non farei il mio dovere. Tutolo afferma che ci sono cittadini fragili che non possono soffrire di alcuni servizi specifici, in particolare di cicli di riabilitazione termale a loro destinati. La regione Veneto, la regione Sicilia, la Sardegna, l'Abruzzo, le Marche, hanno normato con delibera di giunta regionale e quindi i cittadini di queste regioni stanno beneficiando di queste risorse. Io mi chiedo perché i nostri non ne devono beneficiare. Non sono arrivate queste risorse? 21 marzo 2023. Quindi parliamo di 3, 4, 5 mesi fa. Ma attenzione, sono cicliche. L'anno scorso la stessa cosa, quest'anno la stessa cosa, l'anno prossimo probabilmente la stessa cosa, perché poi quando si mettono in piedi queste misure, sono come dire, le ripetono anno per anno.